È stato l'ennesimo importante riconoscimento e onore per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo del Molise di Teramo la visita di Monique Eloua, direttrice dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale. Madame Eloua è arrivata in Italia per incontrare il Ministro della Salute Speranza e non ha perso l'occasione per visitare uno dei centri di eccellenza più noti nel mondo. L'Istituto è veramente conosciuto a livello mondiale, ha una grande importanza che riveste grazie al livello elevato di expertise che ha in tanti campi. Abbiamo delle collaborazioni attive che legano proprio l'Istituto all'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'importanza dell'Istituto è anche fondamentale nell'ambito di quello che è One Health, quindi la salute unica tra uomo e animale e l'apporto che l'Istituto può dare è veramente fondamentale. Il ruolo dell'Istituto sarà fondamentale per gestire anche quelle che saranno future emergenze, per prevenire soprattutto le malattie infettive che poi sono anche trasmissibili all'uomo. Oggi non è solamente per riconoscere il valore di questo istituto, ma anche per ringraziare tutte le autorità locali di quello che è il servizio che l'Istituto fa e non a caso poi nei prossimi giorni andrò anche in visita al Ministero della Salute. La direttrice dell'OIA è stata accolta a Teramo dalle istituzioni locali e regionali a dimostrazione di come il territorio si è legato all'Istituto, struttura di alta ricerca e attualmente strategica nella lotta alla pandemia. Una visita importante, un riconoscimento internazionale all'Istituto. Giornata storica per l'Istituto, la visita della direttrice generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale per noi è un riconoscimento dell'attività svolta della nostra tradizione. Perché vi dà questo grande riconoscimento? Perché l'Istituto è impegnato a livello globale ormai da anni sullo scenario scientifico, sulla cooperazione nella sanità veterinaria. Questo impegno è oggi rinnovato e potenziato, i rapporti sono sempre più intensi, andiamo avanti su questa strada.